Allora, ciao a tutti, vediamo ora come creare un video chat di gruppo con gli alunni, per esempio Allora andiamo in Skype, per esempio, e aggiungiamo, siamo nella schermata chat Premo in alto a destra dove c'è la pennina e faccio nuova chat di gruppo Ok? Metto magari il nome della classe, la sezione, insomma quello che volete Tipo facciamo la seconda, la famosissima seconda Q Gli posso mettere l'immagine o quello che voglio io e poi clicco su avanti Vado su avanti e non metto nessuno, quindi clicco in alto a destra su fatto, ok? È come se avessimo creato un gruppo di WhatsApp totalmente puto Ora che cosa devo fare? Devo invitare altre persone, quindi clicco su invita altre persone E vado su condividi link per unirti al gruppo Faccio così E ora metto la spunta condividi il gruppo tramite collegamento Ok Vado su altro E automaticamente vado su WhatsApp E lo vado a mettere per esempio in un chat che magari ho già, diciamo, di WhatsApp Ok? Ora in questo modo tutti quanti i ragazzi riceveranno un link dove automaticamente premendo Si potranno, diciamo, saranno collegati a questo gruppo Ok? Altra cosa che si può fare, si può programmare la video chat Quindi se avete intenzione di fare per esempio una lezione alle 9 del mattino di domani Tipo mercoledì 18 marzo Cliccate sopra dove c'è scritto il nome del gruppo Quindi qui dove c'è scritto seconda Q un partecipante Però se non ho aggiunto nessuno Giustamente non metto niente Aggiungo qualcuno Tipo invita altre persone Metto me stesso Ok? Fatto Invita altre persone Lo faccio E poi vado su seconda Q E qui c'è pianifica una chiamata Clicco su pianifica una chiamata Metto il titolo Quindi lezione di storia Poi mercoledì domani alle ore 9 Fatto Avviso 15 minuti prima Se faccio invia Ora Tutti quanti quelli che avranno già Skype sul cellulare Avranno cliccato e saranno all'interno del gruppo 15 minuti prima della videochiamata Riceveranno un Diciamo un Diciamo un